C'è tutto l'amore per una certa cosa allo stesso tempo, ma anche però se non la soddisfazione, il sollievo di pensare che questa cosa l'hai messa in mani buona e di questo ne sono sicuro perché è gente molto perbene, buona anche dal punto di vista caratteristico. Ogni Presidente dà una sua impronta, questo senza dubbio, quindi ci sarà forse col tempo un'impronta anche diversa, questo non lo so, è importante che sia sempre rispettosa, queste persone abbiano in mente anche questo, rispettosa di quello che è il resto del mondo oltre alla propria attività.